Il giorno impieghi ore per affettare e preparare gli ingredienti per i tuoi piatti. Tagli ancora la cipolla a cubetti con il coltello? Dimentica quest'incubo e lacrime versate. Quello che ti serve è Wonder Magic. Ti presentiamo il migliore strumento al mondo per tagliare e affettare. La soluzione definitiva che non dovrebbe mancare in nessuna cucina. Wonder Magic è l'affettatutto più veloce, pulito e sicuro che possiate trovare. Creato per tagliare e affettare qualsiasi tipo di alimento. Basta posizionare il cibo sulla base, premere il braccio ed ecco fatto. I vostri alimenti affettati in un lampo. E la cosa fantastica è che un apposito contenitore raccoglie il cibo pronto. Cos'altro potresti chiedere? Nota la differenza tra il taglio con strumenti tradizionali a mano e con il rivoluzionario Wonder Magic. È molto più semplice. In questo modo puoi tagliare di più in minor tempo. La differenza è evidente. Le due lamine acciaio inossidabile di Wonder Magic sono state appositamente studiate per tagliare il più possibile con un solo gesto. Due accessori, uno con le lame più distanziate, e l'altro con le lame più ravvicinate, che non perderanno mai l'affilatura e ti permetteranno di affettare tanto cibo in pochissimo tempo. Wonder Magic taglierà ancora e poi ancora con un semplice tocco della tua mano. Con Wonder Magic potrai preparare una gustosa pizza in un batter d'occhio. Basta tagliare gli ingredienti e spargerli sull'impasto. Qualche minuto nel forno ed ecco fatto. È semplice e stuzzicante. Ora prepareremo un piatto orientale. Per prima cosa affettiamo le verdure che verranno raccolte nel contenitore. Poi le facciamo saltare in un wok, aggiungiamo i noodles, ed ecco che abbiamo un piatto originale e sfizioso. L'ingredibile Wonder Magic sarà il tuo migliore alleato in cucina. I tuoi ospiti rimarranno a bocca aperta. Wonder Magic comprende due contenitori trasparenti di diversa grandezza, ognuno col proprio coperchio a chiusura ermetica. Si incastrano alla perfezione nel braccio munito di lama, sono infrangibili, antigraffio, antimacchia e non assorbono odori. Ordina adesso e riceverai l'affettatutto con base antiscivolo. Una lama per tagliare a cubetti grandi, la misura ideale per le patatine fritte. Una lama per tagliare la verdura julienne o preparare sughi. Due contenitori trasparenti con coperchio. Sono praticamente indistruttibili, non trattengono odori e non si macchiano. Approfitta di questa incredibile opportunità!